Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Iniziamo con la visita del ministro della coesione territoriale del Mezzogiorno Claudio De Vincenti che ieri pomeriggio ha visitato la Sevel e il polo di innovazione dell'automotive per la presentazione dei progetti di ricerca e delle linee strategiche. Il sistema delle imprese automotive occupa circa 30.000 addetti, di cui 25.000 in provincia di Chieti per un fatturato di 7 miliardi di euro, pari al 20% del settore manifatturiero e rappresenta il 50% dell'export regionale. Vediamo il servizio. Qui si fa l'industria 4.0. Il ministro per la coesione del Mezzogiorno Claudio De Vincenti ha concluso i lavori del workshop con cui il polo innovazione automotive ha presentato nella sede di Santa Marienbaro i nuovi 11 progetti che vedono coinvolte 15 aziende oltre alle università dell'Aquila e delle Marche con un investimento complessivo di 14 milioni di euro e un contributo di 8. Un esempio è quello del polo automotive abruzzese, ha detto il ministro, da esportare nelle altre regioni del sud. Questa che abbiamo vissuto oggi è stata una giornata molto bella perché ci ha mostrato una realtà qui in Val di Sangro, in Abruzzo, una realtà assolutamente di avanguardia che sta costruendo con il progetto Innovazione Automotive un'interazione forte tra ricerca, innovazione e industria. Significa collocarsi ai livelli alti della competitività internazionale e valorizzare il ruolo della manifattura italiana e abruzzese. Credo che questa di oggi sia una giornata positiva, ci mostra le capacità del nostro paese e noi dobbiamo avere molta fiducia nelle capacità imprenditoriali e nelle competenze lavorative che sono presenti qui in Abruzzo e in Italia. Sette dei progetti sono direttamente collegati al Ducato prodotto in Sevel. sono stati illustrati alla platea dall'ingegnere Enrico Pisino, Head of Innovation del gruppo FCA. Il direttore del Polo, Raffaele Trevilino. Sono progetti che riguardano sette, riguardano tutte le parti del Ducato, alleggerimento, quindi utilizzo dell'alluminio o di acciai alto resistenziali per alleggerire e quindi diminuire l'impatto nell'atmosfera, quindi ridurre le emissioni e ridurre anche i consumi. Altri progetti interessano più i processi, quindi la velocizzazione dei tempi ciclo e quindi la riduzione dei costi. La DG Capital Service, azienda di Castelnuovo Vomano in provincia di Teramo, questa mattina al tavolo delle relazioni industriali della provincia, ha confermato le procedure di licenziamento per 79 addetti, l'intero organico aziendale, per cessazione di attività. Dopo il mancato accordo al tavolo sindacale, oggi si è svolto il secondo incontro in provincia al tavolo di servizio relazioni industriali e l'azienda si è detta disponibile ad un incentivo all'esodo e laddove le condizioni di mercato lo consentissero all'eventuale reimpiego di lavoratori in aziende collegate al gruppo. La parte sindacale ha rappresentato l'esigenza di ascoltare i lavoratori riuniti in assemblea. E' stata fissata una nuova riunione per il 7 di novembre. E poi ancora esito incoraggiante per l'incontro terminato nel primo pomeriggio di ieri fra una rappresentanza sindacale dei lavoratori della Corpa SRL che chiedono il pagamento di quattro mensilità arretrate alla proprietà dell'azienda e il commercialista pescarese Vincenzo Serraiocco in rappresentanza della maggioranza della proprietà. Siamo moderatamente soddisfatti delle risposte ricevute dal dottor Vincenzo Serraiocco ha dichiarato Guido Lutrario della Federazione Romana dei Sindacati di Base. Abbiamo chiesto per la ripresa dell'attività, oltre all'annullamento dei provvedimenti disciplinari anche il pagamento di almeno due stipendi, un piano di rientro che dia rassicurazioni anche per le altre due mensilità arretrate e l'impegno che si regolarizzino i pagamenti degli stipendi. Abbiamo stirato un verbale d'incontro contro firmato dalle parti e ora attendiamo che si passi dalle parole ai fatti. Maxi operazione dei Carabinieri dell'Aquila unitamente a quelli di Avezzano che ha permesso l'arresto di cinque marocchini dediti allo spaccio. Facevano parte di un soddilizio criminale a Celano. Nel corso della stessa operazione arresti in precedenza anche all'Aquila ed Avezzano dove ad agire era un gruppo formato da albanesi, marocchini e italiani del posto. Il servizio di Daniela Rosone. Una maxi operazione dei Carabinieri della Compagna dell'Aquila in collaborazione con quelli di Avezzano che ha permesso di infliggere un duro colpo allo spaccio di stupefacenti nel territorio marzicano e aquilano. Cinque gli arrestati. Si tratta di marocchini che da anni dimorano a Celano. L'operazione Terre di Mezzo in realtà fa parte di un'attività più ampia iniziata sotto la direzione del PM Simonetta Ciccarelli della Procura Aquilana a svolgere le indagini tra il settembre e il dicembre del 2016 i militari del nucleo operativo e radiomobile dell'Aquila agli ordini del tenente Maximiliano Papale. Intercettazioni telefoniche ambientali che hanno permesso di individuare un sodalizio criminale notevole composto per lo più da soggetti di etnia albanese e marocchina e anche da italiani del posto tutti i dediti allo spaccio sull'intero territorio provinciale. La droga, una volta arrivata da Vezzano, veniva distribuita sull'intera Marsica, all'Aquila e anche a Sulmona. A Celano l'operazione ha permesso di individuare un altro gruppo criminale composto da marocchini, quelli colpiti dagli arresti odierni. Già il 18 settembre scorso c'era stata, lo ricordiamo, in una misura cautelare a carico di un albanese e di un aquilano. Nel complesso sono indagate nove persone per circa 20 capi di imputazione. Nel corso della medesima operazione, tre sono stati gli arresti in flagranza e sette le denunce in stato di libertà. Sequestrati anche oltre 100 grammi di cocaina e circa 15.000 euro in contanti, provento delle attività di spaccio. Tra i ruoli più rilevanti dell'organizzazione criminale, la prima, un albanese classe 71 residente a Vezzano. La droga aggiungeva ad Avezzano da Roma o Pescara brevi e fugaci incontri per dare droga e prendere il denaro. Una dose veniva venduta a 40-50 euro. Tra gli arrestati in flagranza c'è anche l'aquilano, che aveva appena acquistato la droga dal cittadino albanese. Lui aveva il compito poi di ridistribuire sulla piazza aquilana. Autonomo era invece il sodalizio di Celano. Marocchini giunti nel fucino per lavorare nelle campagne. Quotidiani e costanti gli spacci preannunciati da telefonate brevissime. La misura cautelare odierna eseguita invece dai carabinieri del capitano Francesco Nacca, unitamente ai colleghi di Avezzano, ed è stata tutt'altro che agevole. Gli arrestati infatti erano soliti cambiare di mora. Durante uno degli arresti, un acquerente che ha bossato a casa dell'arrestato è stato trovato con oltre 2.000 euro, ovviamente sequestrati assieme a droga trovata nell'abitazione dell'arrestato. Audizione in conferenza dei capigruppo in regione all'Aquila dei rappresentanti dei medici di guardia. Si discute del recupero disposto dalla regione delle somme riguardanti le indennità accessorie allo stipendio. Ascoltiamo l'assessore regionale alla Sanità Silvio Paolucci, che ribadisce che da parte dell'ente il provvedimento è un atto dovuto. Si è chiarito con due pareri dell'Avvocatura regionale che l'azione di recupero è un atto dovuto della Giunta e non una scelta della Giunta regionale. Inoltre il secondo parere dell'Avvocatura è giunto al termine di una richiesta circa la risoluzione del Consiglio. Quindi nessuno può fare propaganda elettorale dicendo che con quella risoluzione si può e si deve sospendere l'attività di recupero perché è impossibile. Ci sono pareri legali in tal senso. La Giunta regionale ha proposto ben due vie di uscita. Intanto sta siglando un accordo con le segreterie regionali sindacali dei medici per attivare una contrattualistica a livello decentrato nelle aziende e recuperare esattamente le stesse somme per il futuro, ovviamente, in modo da adeguare legittimamente il contratto collettivo regionale, l'accordo integrativo regionale. In secondo luogo la Giunta ha proposto che possa disciplinare sul punto normando, ovviamente, la questione, il Parlamento nazionale. E ora andiamo all'Aquila, torniamo all'Aquila. Parole durissime, quelle rivolte dal Consigliere Comunale e Preside Angelo Mancini all'amministrazione Biondi. Avete preso in giro la città a Tuona per le scuole, non avete fatto nulla. L'amministrazione comunale ha preso in giro la città dell'Aquila ed è gravissimo che lo abbia fatto sulla pelle degli studenti, al Mancini Pensiero, in duplice veste di Consigliere Comunale Preside sulla situazione dell'edilizia scolastica in città. L'amministrazione comunale non ha fatto nulla a Tuona. Hanno preso in giro la città per un motivo semplicissimo. Avevano scritto nel programma che al primo di settembre tutti gli alunni sarebbero stati messi in edifici sicuri e non sono state manco verificate gli edifici dove gli alunni tuttora sono collocati. Non è stato fatto niente, nessun contratto con esterni per la verifica della vulnerabilità sismica di gli undici edifici rimanenti. Cialente ha fatto fare una determina dirigenziale a dicembre 2016, neppure i risultati di quelle dieci scuole oggi sono disponibili. Per quanto riguarda le scuole superiori, tanto sbandierato l'abbattimento e la ricostruzione del liceo Cotugno e la sistemazione temporanea nell'edificio dell'ex optines e gli studenti del liceo Cotugno sono dislocati su cinque sedi e così probabilmente rimarranno per tutto quest'anno scolastico. Il consigliere ha accusato l'amministrazione attuale di fare propaganda politica anche con la provincia. L'auspicio per Mancini è che quest'ultima, avendo fondi a disposizione, risolva una volta per tutte la situazione. Speriamo che perlomeno i 7 milioni e 500 mila euro disponibili che la provincia ha in cassa siano utilizzati per mettere in sicurezza l'edificio di Pettino, così perlomeno dal primo di settembre gli alunni avranno la possibilità di non perdere completamente la loro identità e tornare nella scuola nell'edificio di Pettino. I consiglieri comunali della lista responsabilità comune di Città Sant'Angelo contestano l'assegnazione degli incarichi per le relazioni tecniche esterne e consulenze sul porta a porta attribuiti dall'Inda S.P.A., società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. Si parla del servizio di porta a porta a Città Sant'Angelo, di relazioni tecniche esterne che sarebbero state affidate e che voi contestate. Perché? Assolutamente le contestiamo in quanto noi crediamo che qualsiasi relazione che sia stata presentata e affidata ai vari professionisti che hanno dovuto lavorare su questo non sono mai giunte in consiglio comunale. Per l'affidamento del servizio porta a porta doveva essere propedeutica due serie di relazioni. La modifica statutaria per quanto concerne la l'Inda S.P.A. è la convenienza per la relazione e la relazione sulla convenienza. Guarda caso questi due incarichi sono stati effettuati e sono stati dati ad il primo per quanto concerne la relazione ad un professionista, guarda caso ex componente del PD, ex sindaco di Città Sant'Angelo, per un ammontare di 13 mila euro. La seconda è un noto studio di avvocati di Pescara per un ammontare di 18 mila euro. Queste due relazioni non sono mai giunte in consiglio comunale, ma bensì l'amministrazione ha preferito effettuarle e redigerle essa stessa, tramite i propri uffici, senza aggravio dell'economia. A questo punto noi chiediamo come mai sono stati dati questi incarichi, soprattutto con, a nostro parere e a nostro modo di dire, lacune, soprattutto nell'affidamento, perché non sono stati chiesti né preventivi né sono state fatte ricognizioni tra diversi professionisti. Quindi noi chiediamo questa all'amministrazione. L'amministrazione non ha risposto e quindi noi chiederemo anche, e saremo pronti ad andare anche verso le sedi giuridiche competenti. Due persone sono rimaste ferite a Lanciano in un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo della raccolta differenziata dell'Ecolan SPA. Il camion di 35 quintali carico di rifiuti si è scontrato con un fuoristrada a un incrocio in località Redicoppe, poco distante dal centro di raccolta di rifiuti. Nel violento impatto il mezzo della Ecolan si è rovesciato, l'autista è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato estratto grazie all'intervento dei vigili del fuoco. È stato poi ricoverato all'ospedale di Lanciano per politrauma e varie ferite. Lievemente ferito il collega che è riuscito a venire fuori dal finestrino, lato passeggero, sono intervenuti sul posto anche la polizia municipale di Lanciano e il 118. Sono stati definitivamente rimossi i contestati facilittori che erano sulla facciata del teatro Fenaroli di Lanciano che furono coperti il 25 aprile scorso durante la festa della liberazione. La sovrintendenza abruzzese ha autorizzato l'eliminazione del manufatto perché non ha più di 50 anni e quindi non è sottoposta a tutela con le norme vigenti. I fasci erano stati sistemati nel 1997 al termine del restauro del teatro Fenaroli. Il 27 maggio scorso lo avevano coperto e da questa mattina il simbolo del potere fascista non c'è più. Sono stati infatti rimossi dalla facciata del teatro di Lanciano i tre facilittori che ornavano la parete esterna del secondo piano appena sotto la base del timpano che riporta la scritta Teatro Comunale Fenaroli. Cinque mesi dopo la cerimonia di copertura dei fasci promossa dall'Ampi con un telo che tuttavia lasciava trasparire il manufatto, l'amministrazione comunale ha esaudito il desiderio di Maria Saveria Borrelli, consigliere comunale del PD e presidente Ampi Lanciano. Doverosa e importante, sottolineò Borrelli nella sua introduzione alla cerimonia del 27 maggio, giornata nazionale contro il fascismo, l'adesione dell'amministrazione comunale con la copertura finalmente dei fasci littori, simbolo di potere fascista. Un deciso atto politico, commentò il sindaco Mario Pupillo. In città l'iniziativa scatenò polemiche infinite sulla rilevanza storica o meno della lapide che venne fatta apporre dopo il restauro del teatro negli anni 90 dall'allora sindaco Nicola Fosco e sulla decisione di coprirla per rimuoverla in un secondo momento. La sovrintendenza abruzzese ha autorizzato l'eliminazione del manufatto perché non ha più di 50 anni e quindi non è sottoposto a tutela con le normi vigenti. I fasci erano stati sistemati nel 1997. È stata una giusta rivendicazione dei cittadini lancianesi, ha detto il sindaco Mario Pupillo, che hanno espresso la loro contrarietà ai fasci vietata per legge anche attraverso una raccolta di firme. Ora sulla facciata del Fenaroli saranno apposte artistiche, maschere teatrali in sintonia e in continuità con gli altri aspetti architettonici dell'edificio. L'Aquila abbraccia Amatrice il 4 novembre in città, una giornata dedicata ai fratelli di Amatrice con degustazioni, proiezioni e dibattiti. L'Aquila abbraccia Amatrice una giornata il 4 novembre per suggellare un rapporto di fratellanza tra le due comunità. Così come Amatrice aveva dedicato una serata all'Aquila il 20 agosto prima del disastroso silma del 24, oggi è l'Aquila ad accogliere Amatrice con una giornata loro dedicata. Inizieremo a mezzogiorno con l'apertura degli stand al Parco del Castello e gusteremo i meravigliosi spaghetti all'amatriciana e anche delle nostre specialità enogastronomiche. La giornata si svolgerà all'interno dell'auditorium del Parco del Castello partendo dalle tre meno un quarto con la trasmissione, diciamo così, la messa in onda del cortometraggio del famoso regista Gianni Amelio che appunto ha girato il suo cortometraggio ad Amatrice. Verrà poi presentato anche il progetto Amatrice Futura che parla appunto di un progetto di ricostruzione della città stessa e ne siamo onorati perché il sindaco di Amatrice ha deciso di ufficializzarlo per la prima volta qui all'Aquila. Ci sarà anche la parte istituzionale dove appunto si saluteranno e si incontreranno i due sindaci e sicuramente scambieranno dei doni e poi ci sarà tutta una parte diciamo così più folcloristica tradizionale dove si esibiranno dei loro cori tradizionali, la nostra Corale 99. E a seguire diciamo infine la proiezione del film Ratatouille promosso dalla nostra eccellenza del Tedore Aguilano, la Lanterna Magica. Il vice sindaco di Amatrice ha ricordato che verrà proiettato anche il corto di Gianni Amelio, Casa d'Altri. Quando c'è un terremoto rimane scioccato ma pensi sempre che sia venuto in casa da altri appunto. Il video porterà gli spettatori nella zona rossa di Amatrice. Il destino ha voluto che solo quattro giorni dopo il terremoto colpisse Amatrice e l'Aquila è stata su, è stata la prima città che è arrivata, i primi volontari, i primi alpini. Abbiamo avuto le strade e i ponti interrotti e sono venuti a piedi e ci hanno aiutato con le loro mani diciamo ad aiutare i nostri cittadini. Nello specifico con Amatrice c'è un'amicizia che proviene da prima del terremoto evidentemente che però in questi mesi, in questo anno e mezzo che ci separa dal terremoto si è rinnovata, è diventata più forte e speriamo che anche loro possano intraprendere quel percorso di fiducia e di speranza che è toccato in sorte a noi. Nel corso della giornata sarà presentato anche Amatrice Futura non un progetto ma un percorso, ha spiegato l'ingegner Palombini Amatrice è distrutta, dovrà rinascere Bella perché ha una sua storia ma soprattutto si cura. Una giornata questa che sarà interamente finanziata dal Comune dell'Aquila ha ricordato l'assessore di Cosimo, promotrice dell'iniziativa. L'Associazione Cuore Nazionale Abruzzo e il Comune di San Giovanni Tiatino hanno presentato la raccolta fondi per Deborah Brandimarte una ragazza di San Giovanni affetta da dolore neuropatico lombosacrale e da tempo immobilizzata a letto. Noi abbiamo ricevuto una lettera da Deborah dove ci chiedeva aiuto per la sua patologia una nombosacologia cronica che la tiene a letto da diversi anni dove le istituzioni purtroppo per un caviglio burocratico non vogliamo entrare in merito perché poi c'è l'aspetto legale che va avanti però noi non potevamo sottrarci come associazione socioculturale di poter aiutare Deborah e quindi abbiamo organizzato diverse iniziative tipo la pedalata solidale grazie anche all'amministrazione comunale grazie all'impegno del sindaco, del vice sindaco, dell'assessore alle politiche sociali. Ci siamo attivati da subito per una raccolta fondi oggi sottoscriviamo un importante protocollo con il Comune di San Giovanni di Tadino a fare in modo che Deborah possa ripropiarsi della sua vita quindi attraverso delle cure purtroppo a pagamento dico purtroppo perché il diritto alla cura è sancito dalla Costituzione italiana e qui forse non è un caso che rientri con Deborah e quindi noi faremo in modo di esprimere la massima solidarietà ma chiediamo a tutti i cittadini abruzzesi non solo perché la campagna parte da San Giovanni di Tadino ma coprirà tutto il territorio nazionale per la raccolta fondi affinché Deborah possa curarsi e ritornare a vivere C'è un IBAN a disposizione di tutti coloro che volessero dare una mano? Sì attualmente c'è un IBAN ma stiamo aspettando il numero solidale il 4545 perché chiunque poi possa donare attraverso un sms un contributo a Deborah Anche il comune di San Giovanni di Tadino scende in campo in favore di Deborah oggi c'è stata la firma di questo importante protocollo Sì come non si poteva fare a meno diciamo di affiancare una iniziativa del genere di questa nostra cara concittadina che oggi ha una serie difficoltà ha bisogno di aiuto, noi siamo pronti grazie al Corea Nazionale che ha lanciato questa sottoscrizione che da oggi possiamo dire è partita è partita, speriamo che porti i suoi buoni frutti perché Deborah ha bisogno di tutti noi noi come comune abbiamo messo la faccia ma sono certi che tutti i cittadini ce la metteranno come sono pronti a mettere un piccolo ma importante contributo per fare in modo che la cara Deborah, ripeto, torni a vivere in modo giusto L'Unitalsi di Pescara ha accolto il rosario più grande del mondo che ha fatto il giro di tutta la diocesi e farà tappa in modo particolare sabato 28 presso la casa circondariale di Pescara il rosario è stato costruito dai volontari dell'Unitalsi abruzzese e misura 82,90 metri di lunghezza con un perimetro di 146,18 metri nel 2012 il Guinness World Record lo ha riconosciuto ufficialmente come il più grande mai realizzato il servizio della redazione di Vestina News Mirele è il presidente dell'Unitalsi sotto sezione di Penne oggi avete voluto fortemente questa iniziativa qui a Penne anche per prepararvi al pellegrinaggio dell'8 dicembre a Lourdes Vero, questo è un rosario irrerante che va per tutta l'Italia adesso ce l'abbiamo qui in Abruzzo quindi è meditato, è un rosario bellissimo coinvolgiamo tutte le associazioni di Penne in più stiamo promuovendo per andare a Lourdes l'8 dicembre per l'Immacolata, tre giorni quindi andiamo con l'aereo e andiamo anche con i Pullman Dante del Pidio, quali sono i punti importanti dell'Unitalsi? è vivere 365 giorni l'anno con gli ammalati con le persone disabili, con gli anziani, con i piccoli con coloro che hanno bisogno con quelle persone che spesso la società trascura che non si accorge dei loro bisogni e allora noi cerchiamo di sopperire lì dove ci sono delle carenze dove si trova la forza per fare tutto questo? dal sorriso di quelle persone che quando tu le aiuti quando le imbocchi, quando asciughi una loro lacrima quando le nisci una loro sofferenza ecco quel sorriso è il miglior ringraziamento che concede a tutti quanti noi la forza di fare quel che facciamo sapendo che abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere vogliamo dedicare questo rosario ad un carissimo amico un nostro testimonial, si tratta di Fabrizio Frizzi testimonial del nostro progetto Bambini che come sapete sta attraversando un momento di difficoltà un momento particolare allora gli ho chiesto di potergli dedicare la recita di questo rosario questa sera qui da penne per augurargli una pronta e immediata guarigione apriamo la pagina dello sport e parliamo di serie B e di Pescara seduta singola mattutina oggi per i biancazzurri che preparano il big match di venerdì sera l'Adiatico Cornacchia contro il Palermo è tornato regolarmente in gruppo Cesare Bovo che ieri aveva fatto lavoro differenziato il difensore sarà dunque a disposizione di Zeman difficile invece il recupero di Mamadou, Kulibali il centrocampista senegalese è sempre alle prese con un dolore al ginocchio e ha lavorato a parte al pari di proietti nella giornata odierna Zeman ha provato la squadra contro una difesa a tre ovvero il sistema di gioco utilizzato dall'allenatore del Palermo Tedino regolarmente in campo il portiere Mirko Pigliacelli che già ieri aveva lavorato con i compagni dopo essere stato ufficialmente reintegrato nella rosa della prima squadra il tecnico Boemo è alle prese con i consueti ballottaggi in mediana si potrebbe rivedere Canute in regia oppure potrebbe toccare nuovamente a Brugman con Valsania mezzo sinistro certo l'impiego di Palazzi in attacco Capone insidia Benarì in difesa testa a testa tra Coda e Lex Bovo e tra Zampano e Crescenzi nel Palermo fuori causa all'esterno svizzero Michel Morganella che contro Lentella ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro sicuri assenti anche i lungodegenti Balog, Bellusci e Alesami sempre il calcio ma quello di Serie D domani turno infrasettimanale due derby abruzzesi al Valle Anzuca di Francavilla scontro tra i giallorossi e l'Avezzano mentre sul neutro di Pescina i nerostellati ospitano il Pineto la vastese lanciatissima va a Monte San Giusto trasferta a Morisana a Campobasso per l'Aquila mentre il San Nicolò ospita la Vispesaro il servizio è di Jacopo Forcella domani torna in campo la Serie D turno infrasettimanale di campionato nel Girone F con tradistinto da due derby tutte in salsa abruzzese a Francavilla sfida tra i giallorossi di Pierluigi Ervese e l'Avezzano due squadre in forma smagliante in questo frangente reduci da due successi convincenti appaiate in classifica e desiderose di dare continuità alle rispettive strisce dei risultati utili consecutivi il Francavilla tre vittorie nelle ultime tre uscite ha appena asfaltato il San Marino in trasferta anche grazie ad un reparto offensivo che inizia a far paura domani potrà sfruttare il fattore campo anche se il Valle Anzuca almeno in questo avvio di torneo non ha riservato grandi soddisfazioni l'Avezzano sul fronte opposto può farsi forte di una ritrovata compattezza e dei quattro successi messi in fila San Giustese, Agnonese, Fabriano e Castelvidardo regolate una dopo l'altra l'altro scontro al Barbati di Pescina vede invece il Pineto partire con i favori del pronostico rispetto al fanalino di coda Nero Stellati Pratola che continua ad avere parecchie difficoltà in un campionato nuovo nel quale sta pagando più del previsto lo scotto di essere una matricola per Amaolo possibilità di portare a sei risultati utili consecutivi dopo quel 4-3 dello scorso 24 settembre col San Nicolò che aveva messo a serio rischio la sua panchina a proposito di San Nicolò Campanile deve fare il risultato in casa contro Rovis Pesaro vicecapolista ma non sarà affatto semplice perché i biancorossi di Riolfo davanti hanno molte frecce nell'arco i biancazzurri però non possono fare calcoli perché quello col Pineto fu l'ultimo successo prima di 4 sconfitte e un solo pareggio in casa del Campobasso la classifica piange e l'avversario di domani è da prendere con molta attenzione a proposito di vicecapoliste Lava Stese divenuto un rullo compressore dopo il poker di domenica l'Aragona va a far visita alla San Giustese per Colavitto bottino pieno nelle ultime 5 uscite di campionato un attacco che segna raffica e l'entusiasmo della tifoseria che sembra spingere ancora di più i biancorossi aragonesi infine l'Aquila che senza lo squalificato Ibe va a far visita al Campobasso Molisani in flessione dopo un avvio che aveva portato la formazione di Foglia Manzillo al primo posto sul fronte aquilano invece ancora fluida la situazione che riguarda il futuro della società concreta concretissima invece l'abnegazione di una squadra che non solo non concede nulla anzi anche domenica in 10 ha regolato il San Nicolò con una prova di grande carattere e per Battistini la sensazione di potersela giocare alla pari sia al nuovo Romagnoli domani che domenica ad Avezzano da 1 a 5 anni di DASPO il divieto di assistere ad avvenimenti sportivi che potranno salire sino ad 8 in caso di recidiva e quanto subiranno quasi sicuramente di 19 tifosi del Roseto Basket autori domenica pomeriggio poco prima della disputa dell'incontro di A2 Forlì Roseto di un tentativo di aggressione ai tifosi locali prontamente sventato dalle forze di polizia i 19 facevano parte di un gruppo di 35 persone tutte tra i 18 e i 30 anni giunto a Forlì a bordo di un pullman la comitiva è stata portata in una zona riservata per permettere l'accesso al palazzetto ma improvvisamente dal pullman sono scesi i 19 tutti col volto travisato da sciarpe e capelli vestiti di scuro e con scarpe bianche da ginnastica per evitare l'identificazione tramite telecamere con la chiara intenzione di entrare in contatto con la tifoseria locale sono stati tutti bloccati non prima di aver fatto esplodere due bombe carta lanciando sul terreno una pesante sbarra di ferro la successiva perquisizione del pullman è stato spiegato durante una conferenza stampa dalla questora Forlivese ha portato al ritrovamento di una dozzina di sbarre di ferro nove bombe carta due coltelli un blocco di cemento una fionda professionale e in due zainetti i cui proprietari sono stati identificati altrettante modiche quantità di stupefacente dato che anche gli altri 16 componenti il gruppo hanno manifestato l'intenzione di non assistere alla partita sono stati portati tutti e 35 in questura a Forlì e dopo le operazioni di identificazione in tarda serata hanno fatto ritorno a Roseto era questa l'ultima notizia del TG6 che tornerà con le prossime edizioni delle ore 19 e delle ore 23 e poi vi ricordo questa sera alle ore 21 l'appuntamento con il nostro settimanale Proteramo condotto da Jacopo Forcella grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi grazie per l'attenzione